Elena, forse qualcuno di voi lo conosce. Ecco, dunque, dovete sapere che io sono arrivata agli inverter grazie a Nico. Io carino, il mio amico. Quando mi ha proposto questa cosa qui, io entusiasmata, ho fatto ascoltare un pezzo alla mamma. Ho fatto ascoltare un pezzo alla mamma, ho scelto Elena, le ho messo le cuffiette. E ascoltava Elena con dei buccheri da chiave, faceva così con le spalle. Poi si toglie le cuffie e mi dice, ma tu ti sostituisci? Io canto, mamma, il cantante. Ma tu devi dire Elena vacca schifosa. E la domanda mi è sembrata assolutamente... E quindi è diventata Elena, signori. Grazie. 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 Grazie mille. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti